Buon martedì dal vostro Edoardo di Fraternity.it. Oggi è il valore della speranza. Il valore della speranza nasce dalla combinazione del valore dell'amore con il valore dell'ideale, che è simboleggiato dalla spirale. La spinta idealistica dà all'amore una forza espansiva che non conosce dubbi né ostacoli. Vola la speranza al di là dei confini, sconfigge la paura del presente e stende la sua veste bianca sulla visione del futuro. Chi spera sa di vedere sorgere un domani radioso che dissipa le nuvole dell'incertezza e proietta la luce dell'avvenire, il pensiero seme. La speranza è lanciare lo sguardo oltre l'orizzonte nella certezza dell'amore. E finalmente è ritornato questo valore. Lo attendevamo un po', eh? Perché questa speranza ci fa sempre gioire. Ebbene, che cosa dire di più della speranza? Già in questa definizione c'è tutto. Ma c'è una cosa che mi preme ancora comunicarvi, è che noi dobbiamo vivere nella speranza, poiché la speranza getta un ponte sul futuro. È questo che dobbiamo comprendere bene. La speranza getta un ponte sul futuro, poiché ci permette di avere la visione di ciò che accadrà. Ecco, è questo a cui serve la speranza, darci la visione di ciò che accadrà. Non è uno sperare così, ma sospeso, no. La speranza, come la dobbiamo vivere ora nell'era di Aquarius, è veramente quel ponte che dal cuore ci unisce al futuro. Ed è un futuro radioso, perché è quel futuro che aspetta tutti gli animi invitti, cioè che non temono la sconfitta, che non temono il fallimento. è solo così che la speranza vince, vince sulle paure, sui timori, sull'incertezza e ci dà la certezza di un futuro grandioso. ricordiamocelo bene. Queste sono delle pillole per i nostri cuori e dunque ogni mattina sappiamo qual è il valore che va a qualificare questa nostra santa giornata. e la rendiamo santa e sacra proprio in virtù di quel valore. E allora oggi, lo vedete la mia maglietta, è di un turchese, ed è proprio il turchese dell'ideale, poiché ogni martedì è sotto legida la protezione, potremmo dire l'adombramento luminoso, facendo un paradosso o un ossimoro, l'adombramento luminoso dell'archetipo di ideale. Bene, per oggi è tutto, e allora buonasperanza da fraternity.it